Allora, siamo in fase di dichiarazione di voto. Non vedo nessun altro iscritto, però c'è questo emendamento del Consigliere. Grazie. Questo settore del regolamento che tratta ovviamente legato al fatto del computer, quindi deve camminare insieme certamente. Ci sono ancora tanti altri punti però del regolamento che alcuni abbiamo analizzato e altri abbiamo ancora analizzato. Quindi non è che finisce qua. Mentre stanno analizzando quella roba lì, volevo dirlo che rimanesse così ai posti del fatto che secondo me dobbiamo comunque ritrovarci per andare avanti sul regolamento perché l'abbiamo lasciato a metà per passare queste cose legate al computer. Solo questo. grazie. grazie a lei.